Beatissimo Padre, sono presenti comunità dei legionari di Cristo e del movimento Regnum Christi. In particolare saluto la comunità dei legionari di Cristo. Presenti numerosi a questo incontro, insieme con i rappresentanti dell'Associazione Regnum Christi, venuti a Roma per l'ordinazione di cinquanta nuovi sacerdoti. Il Signore vi sostenga nel vostro ministero, affinché possiate attuare con gioia e fideltà la vostra missione al servizio del Vangelo. Grazie. 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 Grazie.